È bastato che Giove Pluvio smettesse per un attimo di mandare giù pioggia a dirotto affinché la fiera del Santissimo Crucifisso chiudesse in bellezza. Domenica infatti oltre 50.000 persone hanno visitato la manifestazione organizzata a piattoni di Castel di Lama, con code sia in uscita dalla superstrada che lungo la salaria. Ogni evento è riuscito a coinvolgere tantissima gente in prima persona, come nell'elezione dell'asino diplomato, in quella di Mese e Mister Fiera e nella selezione del bovino marchigiano di miglior qualità. Senza contare la tosatura della pecora e altre chicche che hanno scandito questa edizione 2009. Tre, gli ospiti d'onore, oltre a Luca Sardella e Massimiliano Ossini, anche la bellissima e applauditissima Veronica Maia. Come nel passato, l'ampia offerta non solo di prodotti agroalimentari, ma anche di appuntamenti ed iniziative collaterarie alle esposizioni classiche, comprese quelle dei bovini marchigiani, dei cavalli, degli asini e dei colombi, è stata la chiave di volta del successo della quindicesima edizione della fiera. Vera novità, la sfida vinta della cacciotta di pecorino più grande del mondo, con migliaia di visitatori arrivati in paese per seguire l'evento e degustare nel contempo la ricotta ricavata dal siero. Per l'anno venturo si spera nella clemenza di Giove Pluvio, che ha messo a rischio anche il defilé del Palio della Balestra, rievocazione storica che coinvolge i quartieri lamensi, con annessa la ricostruzione di un vero borgo medievale ad opera della Proloco. La tradizione qui a Castel di Lama è venuta su molto bene, alla gente piace molto partecipare, poi nel tempo abbiamo creato anche il borgo storico, perché forse questo ci aiuta ad avvicinarci di più a quelli che sono gli usi di un paese, perché comunque qui Castel di Lama è stato sempre un paese naturalmente di agricoltori. Così abbiamo riscoperto i vecchi mestieri, sono abbinati alle varie ville, in alcune ville questi mestieri esistono ancora. Abbiamo infatti un ramaio che ancora porta avanti la tradizione del rame qui a Castel di Lama, ormai ce ne sono rimasti pochi anche nella provincia di Ascoli. Insomma un tocco di tradizione dal sapore medievale che ha reso ancora più magica questa edizione della Fiera del Santissimo Crocifisso. Grazie a tutti.